Bene, possiamo partire. Buongiorno a tutti. Allora, oggi vediamo un tema d'esame. Un tema d'esame relativo alle simulazioni che avete iniziato a vedere nelle ultime lezioni. Un tema d'esame non è del 2011, è del 2017, è sbagliata la data. Sapete che appunto gli esami si differenziano in due tipi principali, ricorsione o simulazioni. E questo era relativo alle simulazioni. Dove il primo punto è sempre comune a tutti gli esami, sempre più o meno strutturato allo stesso modo. Allora, su GitHub trovate già il progetto base, dove ho già risolto il primo punto, perché oggi vogliamo concentrarci sul secondo e altrimenti non saremmo riusciti ad arrivare alla fine. Quindi potete forcarlo e clonarlo e da lì partiremo per risolvere il secondo punto. Mentre fate questo, vediamo di che cosa si tratta. Dunque, era un esame basato sul DB Country Borders, lo stesso che avete usato, mi pare, all'ultimo laboratorio. Sì, quindi in realtà la soluzione del punto 1 è anche la soluzione del laboratorio, quindi ora lo vediamo insieme così potete anche confrontare con quello che avete fatto mercoledì. Quindi il DB lo conosciamo, le due tabelle Country e Contiquity. Va bene. Si intende costruire un'applicazione JavaFX che permetta di interrogare tale base di dati e restituisca informazioni utili all'analisi di un flusso migratorio. E vedremo questo è il punto 2. Ma partiamo dal punto 1. Il punto 1 chiedeva di permettere all'utente di specificare un anno, esattamente come il laboratorio, e di richiedere il calcolo dei confini. Quindi il grafo è esattamente quello di mercoledì scorso. Quindi il grafo ha come vertici i country e come arco il fatto che questi country siano confinanti oppure no a partire dall'anno specificato, confinanti via terra, il cui campo con type sia uguale a 1. E poi c'era l'ultimo punto, scusate, l'ultimo punto del punto 1, che ovviamente in questo caso penso che differisca da quello del laboratorio, ma chiedeva di stampare l'elenco degli stati, di tutti gli stati presenti nel grafo, indicando per ciascun stato il numero di stati confinanti. Non mi ricordo se era esattamente il punto del laboratorio oppure no. Forse sì. L'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. Va bene? Vediamo un attimo come l'ho risolto nel progetto base, poi passiamo al punto 2. Apro la classe model. Abbiamo un grafo semplice, non orientato e non pesato, i cui vertici sono tutti gli stati che ottengo dal DAO a partire da un certo anno. Vediamo la query. Eccolo qua. Recupero tutti i country per i quali c'è almeno un confine a partire dall'anno specificato. Esattamente la query che dovevate fare in laboratorio, in cui il campo con type sia uguale a 1. ovviamente uso un identity map come al solito e va bene. Con questa mi recupero i vertici. Dopodiché sicuramente si poteva fare tutto in un'unica query. Qui ho deciso di splittare l'aggiunta dei vertici da quella degli archi e quindi ho un metodo del DAO che mi restituisce una serie di coppie di adiacenza. Mi sono definito una classe adiacenza in cui semplicemente vado a modellare il fatto che due stati siano confinanti. Questa classe è semplicemente due ID, ID dello stato 1 e ID dello stato 2. e il metodo del DAO semplicemente mi va a riempire queste adiacenze dalla tabella contiguity. Si poteva fare tutto in un'unica query. E per ogni riga di questa tabella contiguity crea una nuova adiacenza e questa lista di adiacenze viene poi usata per raggiungere semplicemente l'arco. Tutto lì. Va bene? Poi l'ultimo punto del punto 1 richiedeva di stampare tutti i vertici con il numero di confinanti. Allora il model ha questo bellissimo metodo getCountryNumber. Ovviamente anche qui mi sono definito una classe mia per salvarmi questa informazione. Quindi ogni oggetto della classe countryNumber è semplicemente formato da un country e il numero di confinanti e semplicemente per ogni grafo per ogni vertice del grafo creo un oggetto countryNumber in cui il country è quello che sto analizzando e il numero associato è il grado e il grado di c di quel country e poi faccio un sort della lista per ordinare questa lista di countryNumber. Ovviamente se faccio un sort dovrò avere che cosa nella classe countryNumber dovrò avere che questa classe implementa comparable giusto? Altrimenti sulla base di cosa ordina questi oggetti quindi questa classe implementa comparable e in particolare nel metodo compareTo ne ho fatto l'override e con questo metodo riesco a ordinare in modo decrescente per numero. Domande? La differenza tra compareTo usare implementare il comparable qui o definire un metodo direttamente qui con un comparator la sapete no? dovreste già anche avere la rivista quando mi serve ho un unico criterio di ordinamento allora mi va bene avere la classe che implementa comparable e quindi quest'unico criterio di ordinamento sarà definito qua quando invece mi serve per qualche strano motivo avere più criteri di ordinamento allora questa soluzione ovviamente non va più bene perché qui il criterio è unico allora non lo definisco qui ma vado a definire dinamicamente un comparatore quando faccio la sort va bene? domande sul primo punto? è abbastanza facile passiamo al secondo che è l'obiettivo della giornata dunque a mio modesto parere le simulazioni sono più facili delle ricorsioni non so se siete d'accordo è un po' più difficile capire il testo e quindi bisogna interpretarlo bene non sbagliare non sbagliare i vari punti punto 2 chiedeva di simulare la diffusione di una serie di mille immigrati che vengono inseriti in uno stato iniziale selezionato dall'utente dalla tendina questi migranti si spostano ovviamente sono migranti e quindi si spostano secondo le regole enunciate di seguito supponiamo che non ci siano muri e fortunatamente i migranti possono andare dove vogliono dunque al tempo iniziale t uguale 1 tutti i mille immigrati sono posizionati in uno stato iniziale in uno stato scelto dall'utente ogni volta che gli immigrati entrano in uno stato e quindi questo vale sia per t uguale a 1 che nei tempi successivi immediatamente il 50% di questi immigrati di queste persone diventano stanziali cioè si fermano in quello stato non si muoveranno più mentre l'altro 50% continua a muoversi non rimane stanziale e si sposterà negli stati confinanti quindi ad ogni istante di tempo t più 1 la popolazione non stanziale si sposta e si divide in parti uguali approssimate per difetto poi vedremo come fare tra tutti gli stati confinanti e poi c'è un esempio se in uno stato vi sono 40 persone non stanziali ok quindi supponiamo che ci fossero 80 migranti la metà diventa stanziale 40 sta lì gli altri 40 si muovono supponiamo che vi siano tre stati confinanti in ciascuno stato confinanti si sposteranno 13 persone 40 diviso 3 e prendo tronco per difetto e si assuma che la quarantesima persona quindi il resto della divisione divenga stanziale va bene come caso particolare sto leggendo il punto 4 se il numero di persone non stanziali presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti allora nessuno si muove e diventano tutti stanziali nella scelta degli spostamenti tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone è quindi possibile che alcune persone ritornino indietro al tempo t più 2 nello stesso stato in cui erano al tempo t è un fenomeno normale non deve essere trattato in nessun modo particolare semplicemente questa è una specializzazione dei punti precedenti semplicemente ci dice che le persone si spostano solo se ce ne ha sufficienza per coprire tutti gli stati altrimenti non si spostano quindi ad ogni passo di simulazione il numero di persone ancora non stanziali cioè che non si muovono si riduce sempre di almeno del 50% giusto? pertanto a un certo punto la simulazione si esaurirà in quanto tutti saranno divenuti stanziali e questa è la nostra condizione di terminazione quindi al termine della simulazione quando tutti i migranti sono divenuti stanziali occorrerà stampare il numero di passi t che ci sono voluti per distribuire questi migranti e poi stampare l'elenco di tutti gli stati in cui vi siano dei migranti stanziali e stampare quanti migranti si sono fermati in quello stato vabbè l'elenco deve essere ordinato in ordine decrescente di numero di persone domande? sembra contorto in realtà abbastanza facile questa simulazione proviamo proviamo a farlo allora come al solito cerchiamo di dividere bene il codice e quindi anche per le simulazioni è sempre bene avere una classe simulatore dove avrò tutta la mia logica della simulazione e potrò richiamare a piacere dal test model dal controller da dove voglio quindi creo una nuova classe che chiamo simulatore allora ci sono un po' di ragionamenti da fare prima di buttarsi a scrivere il codice del simulatore bisogna domandarsi qual è il nostro diciamo modello e quindi lo stato del sistema ad ogni passo diciamo poi occorre ragionare su quali sono i tipi di evento potenzialmente ce ne sono più di uno quali sono i parametri della simulazione e quali sono i valori in output giusto? partiamo dai valori di output questi sono abbastanza facili da individuare perché lo dice immediatamente il testo il testo richiede alla fine di stampare il numero di passi che ci abbiamo messo per distribuire questi migranti sarà semplicemente un intero t giusto? e poi richiede anche di avere l'elenco di tutti gli stati con le eventuali persone istanziali divenute istanziali questo si modella bene con una mappa no? quindi una mappa in cui l'indice sia la chiave sia il paese e il valore sia un numero il numero di persone divenute istanziali in quel paese molto bene devo importare la mappa ovviamente i parametri della simulazione abbiamo dei parametri? beh sicuramente sì un parametro è il numero di migranti che andiamo di cui andiamo ad analizzarne il flusso che il testo ci dice essere 1000 potrebbe essere un qualunque numero ma il testo ci chiede di simulare il flusso di 1000 migranti altri parametri lo stato di partenza ok possiamo sia definirlo come parametro della classe potremmo anche usarlo direttamente nei metodi ma va bene partenza ok direi che ci siamo il nostro modello allora in realtà abbiamo già definito un qualcosa inerente al modello che è la mappa degli stanziali ma c'è un'altra cosa di cui abbiamo bisogno io parto da uno stato iniziale ma poi dove posso muovermi chi mi dice dove posso muovermi il grafo il grafo che abbiamo creato quindi questa classe sicuramente dovrà avere un riferimento al grafo creato nel punto 1 e questo tipicamente sempre all'esame cioè nel punto 1 si costruisce un grafo nel punto 2 lo si utilizza quindi il grafo era un grafo di country e default edge dobbiamo dargli un nome ovviamente grafo e dobbiamo importare le varie classi ottimo dobbiamo ancora ragionare sui tipi di evento che di conseguenza danno origine alla coda prioritaria no? coda prioritaria con la struttura dati che usiamo sempre nelle simulazioni come avete visto nelle lezioni precedenti allora qui che eventi quanti eventi abbiamo secondo voi qualcuna delle idee io direi che qui la simulazione è abbastanza semplice e direi che un solo tipo di evento ci basta perché l'unico evento da modellare è quello che succede al tempo t che i migranti a partire da uno stato si spostino altri eventi non me ne vengono in mente non ci sono migranti che tornano indietro non ci sono eventi che possano succedere data una certa probabilità qualcuno non è d'accordo ok quindi direi che c'è un solo evento e allora modelliamolo ovviamente gli eventi vanno modellati all'interno di una classe separata e quindi mi crea una nuova classe sempre nel package model chiamiamola evento ci fossero più tipi di evento come penso abbiate già visto all'interno della classe ci sarebbe ad esempio un enum con i vari tipi di evento in questo caso ce n'è solo uno e quindi non dobbiamo differenziarli ma semplicemente che cosa avrà l'evento il tempo t nel quale si verifica il numero di migranti che arrivano in quel paese chiamiamolo n o num n va bene quindi queste sono il numero di persone che sono arrivate e che di conseguenza si sposteranno giusto? e poi abbiamo il paese che è il paese in cui le persone arrivano e da cui si sposteranno non tutte il 50% ovviamente però questo lo sappiamo va bene la classe evento ha sicuramente un costruttore me lo faccio generare da un buon eclipse ha sicuramente dei getter e magari dei setter più che altro dei getter quindi mi faccio generare anche questi da eclipse per tutti e tre i campi direi magari solo i get tanto dei set non ce ne facciamo niente finito? no cosa manca manca la parte fondamentale nelle simulazioni il comparable perché? perché il concetto chiave della simulazione è che utilizziamo una priority queue in cui buttiamo tutti i nostri eventi e poi estraiamo questi eventi uno per volta ma li estraiamo con un certo criterio giusto? non è che li estraiamo a caso è una simulazione che seguirà un certo scorrere di eventi no? tipicamente questo scorrere di eventi è relativo al tempo quindi questi oggetti evento vanno devono avere la possibilità di essere ordinati e quindi implements comparable di evento ovviamente devo aggiungere i metodi non implementati eccolo qua dis.t meno o.t per ordinarli in modo crescente t uguale a 1 t uguale a 2 t uguale a 3 eccetera questo perché utilizzo questo trucchetto qui con il meno perché quello su cui faccio l'ordinamento è un intero fosse stata una data potevo usare il compertù della data dell'oggetto data ad esempio dipende da qual è il campo su cui faccio l'ordinamento domande salvo e torno al simulatore quindi abbiamo visto c'è un solo tipo di evento e ci sarà anche ovviamente la priority queue ah 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 come già come già faccio un po' tutto la priority ah ho sbagliato a scrivere ok bene questi direi che sono tutti gli elementi che ci serviranno per la simulazione dopodiché definito ragionato sul problema e vi consiglio sempre di farlo con attenzione e definiti questi 4 4 punti restano da implementare di solito due metodi uno di inizializzazione del simulatore e l'altro di run diciamo che esegua ad ogni passo un evento dalla coda init allora cosa riceverà questo metodo init beh riceverà sicuramente i parametri qui qui uno è fisso è mille quindi lo lasciamo lì così ma sicuramente il country di partenza lo riceverà come parametro no e quindi possiamo settarlo e poi c'è un'altra cosa che deve ricevere dall'esterno il riferimento al grafo ovviamente quindi dal modello chiamerò questo metodo init passandogli sia lo stato di partenza che il grafo dis punto grafo uguale grafo bene ricevuti i parametri ci sarà una fase di impostazione dello stato iniziale no in cui sicuramente dovrò quasi sempre impostare il tempo iniziale in questo caso lo modelliamo come interi 1 2 3 4 vediamo se il tempo iniziale è 0 o 1 al tempo iniziale t uguale 1 benissimo imposto il tempo iniziale a 1 poi creerà tutte le strutture dati vediamo cosa dobbiamo creare beh sicuramente la mappa stanziali di cui non abbiamo ancora fatto nessuna new e quindi per evitare di ricevere delle null pointer exceptions piacevoli la creiamo sarà una hash map di country integer importo hash map dopodichè questa mappa adesso è vuota dobbiamo riempirla con lo stato iniziale della mappa allora la mappa modella paese numero di persone stanziali beh supponiamo che all'inizio questo numero sia 0 per tutti e poi mano a mano andremo a modificarlo dove prendiamo i country direi dal grafo quindi per ogni country presente nel grafo c in dis.grafo.pertexset andiamo ad aggiungere non sostanziali ma ovviamente stanziali put il c con 0 altre cose da creare direi la priority q quindi q uguale new lo copio di evento quindi nel metodo inid di solito c'è la ricezione dei parametri l'impostazione dello stato iniziale con la creazione di tutte le strutture dati e c'è un ultimo punto nella init che è inserisco il primo evento cioè l'evento di partenza di solito questi tre punti ci sono sempre poi dipende un po' dall'esercizio ma è un pattern abbastanza generale inizializzo la coda con il primo evento quindi this punto q punto add creo un nuovo evento a cui devo passare il tempo il numero di persone che arrivano e che poi alcune di loro ce ne andranno e lo stato in cui arrivano beh all'inizio sappiamo che il tempo è t che sarà mille no scusate sarà uno poi abbiamo n migranti che sarà mille e dove arrivano queste persone nel country di partenza che ricevo come parametro ed è il country che ha selezionato l'utente dalla tendina questo è il metodo init giusto? va bene dopo il metodo init c'è sicuramente il metodo run anche qui il pattern è sempre lo stesso il pattern è sempre estraggo un evento per volta dalla coda e lo eseguo finché e questa è la condizione di terminazione la coda non si svuota qui è abbastanza semplice perché abbiamo un solo tipo di evento e tutto accade sequenzialmente in simulazioni un po' più complicate potrebbe succedere che questa coda vada modificata durante la simulazione stessa cioè che a un certo punto della simulazione si aggiungano in futuro altri eventi in questo caso non succede perché abbiamo un unico tipo di evento allora finché provo a prendere un evento dalla coda quindi ops faccio il poll finché questo finché riesco a prendere un evento dalla coda continuo si può anche testare prima se la coda appunto mi pare is empty vediamo se c'è sì c'è anche l'is empty quindi nel while posso anche testare while not q is empty e poi fare la poll dentro il while fa lo stesso è uguale se sono qui vuol dire che c'è almeno un evento e quindi eseguo l'evento questo è il pattern e poi l'esecuzione dell'evento dipende dall'evento che abbiamo in questo caso dobbiamo prendere le persone e spostarle in tutti gli stati confinanti allora dove prendo il numero di persone dall'evento e.get n poi dallo stesso evento posso prendere lo stato giusto adesso il testo ci chiede di spostare il 50% di quelle persone di n persone in parti uguali in tutti gli stati confinanti di stato allora la prima cosa da fare potrebbe essere recuperiamoci i confinanti di stato posso usare la nostra cara amica classe graphs per farmi dare una lista di neighbors nel grafo ovviamente di spunto grafo del country desiderato stato devo importare list java util ok va bene quindi ottenere gli adiacenti a un certo vertice di un grafo è facilissimo una riga di codice con questa funzioncina qua bene abbiamo i confinanti dobbiamo calcolare quante persone far spostare in ognuno di questi confinanti allora innanzitutto le persone che si spostano chiamiamo questa variabile migranti sono la metà di quelle che arrivano quindi sicuramente una prima divisione da fare n persone diviso due giusto di questa metà devo dividerla in parti uguali per il numero di confinanti quindi confinanti punto size siamo abbastanza fortunati perché l'approssimazione per difetto la fa già la divisione perché definendo come intero questa variabile la divisione viene troncata per difetto quindi se questo se questo valore è maggiore di zero vuol dire che riusciamo a spostare questi migranti in parti uguali negli stati confinanti ce n'è abbastanza per essere spostati secondo la logica del programma perché abbiamo visto che se non ce ne sono abbastanza non si spostano e rimangono tutti istanziali quindi se migranti è maggiore di zero posso spostare le persone si possono muovere come faccio a farle muovere dovrò creare degli altri eventi di migrazione sì qui non è vero che la coda non si modifica dinamicamente in realtà si modifica perché qui mentre stiamo simulando aggiungiamo degli altri eventi però sono tutti eventi che vengono eseguiti al tempo più uno ci sono altre simulazioni in cui dinamicamente potrei inserire un evento a t più 100 per qualche strano motivo ma non è questo il caso quindi add però non aggiungo un solo evento devo raggiungere un evento per ogni stato confinante quindi for country confinante in confinanti per ogni confinante aggiungo un evento il cui tempo è uguale a è punto get t più uno siamo al tempo t al tempo t più uno li faccio spostare quanti se ne spostano? l'ho calcolato prima oppure sbagliato a scrivere migranti ok se ne spostano migranti dove si spostano nel confinante dove si spostano nel confinante giusto? va bene quindi sono arrivate x persone ne ho spostate potenzialmente se ce n'era abbastanza x mezzi mi manca ancora qualcosa? ok aggiornare la mappa degli stanziali cioè quanti ne sono rimasti lì? 50% nel caso migliore in cui sono riusciti in cui tutti si sono riusciti a spostare o potenzialmente anche tutti perché se non c'era se non c'erano abbastanza persone non siamo mai entrati in questa if ma questo numero di stanziali me lo calcolo facilmente perché è uguale agli alle persone che erano arrivate n persone meno le persone che sono partite se poi questo numero è 0 stanziali sarà uguale sarà uguale a n persone e utilizzo questo valore per aggiornare la mappa degli stanziali quindi nello stato relativo all'evento sono rimaste stanziali persone c'è un errore da qualche parte vediamo dove ah è ovviamente void run c'era ancora uno probabilmente un errore di parentesi sì bene dimmi sì sì hai ragione sì 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 ovviamente migranti era il numero di persone da distribuire in ogni stato confinante quindi dobbiamo moltiplicarlo per il numero di stati in cui abbiamo fatto muovere il flusso di nuovo se questo valore è 0 questo termine non è considerato è stanziali uguale a n persone grazie allora vediamo se riusciamo a recuperare tutto poi come valori di output l'output ci richiede gli stanziali e questo è facilmente recuperabile dalla mappa abbiamo definita apposta ma il testo ci chiedeva anche di restituire il numero di passi t simulati vediamo se riusciamo ad ottenere in modo facile questa informazione al momento direi di no però possiamo dire che in realtà il numero di passi simulati sarebbe l'ultimo valore di t a cui siamo arrivati essendo in ordine e quindi quello che possiamo fare è semplicemente utilizzare questa variabile t che abbiamo posto inizialmente a 1 e abbiamo usato solo qui ogni volta aggiornare questa variabile con l'ultimo t a cui siamo arrivati quindi qui this punto t uguale evento e punto get t così teniamo traccia anche dell'ultimo t a cui siamo arrivati domande se non ci sono domande proviamo a collegarlo al controller e vedere se tutto funziona vedete che poi cioè codice non ce n'è tanto per altre simulazioni può anche esserci più codice ma non è difficile poi da fare il difficile è seguire il ragionamento passo passo non perdersi niente capire bene quali sono gli eventi e poi tutto viene abbastanza automatico allora andiamo nel controller eccoci qua allora proviamo a lanciare l'applicazione come vedete come vedete qua posso inserire un anno 2006 posso calcolare i confini il grafo è stato creato ho stampato quello che richiedeva il punto 1 vedete che qua io adesso però dovrei poter selezionare uno stato di questi qua presenti qua e simulare il tutto quindi la prima cosa da fare sarà riempire questa tendina facciamola quella tendina potenzialmente è da riempire solo quando il grafo è stato creato no? perché a seconda dell'anno in cui che inserisco potrebbero esserci stati diversi quindi all'interno del controller dove sei? qua qui dopo aver creato il grafo in questo metodo qua aggiorno la tendina degli stati allora la tendina degli stati si chiama box nazione punto get items punto add all this punto model punto non ho ancora un metodo ma lo andrò a definire un metodo per ottenere tutti gli stati calcolati allora me lo faccio generare nel model eccoci qua e semplicemente ovviamente ritorno una lista di country vado a ritornare il contenuto dell'identity map che ho usato per salvare i miei stati return this punto punto values voglio solo gli stati ovviamente questa non è una lista ma è una collection ma intanto lo cambiamo subito questo metodo perché noi tipicamente in una tendina vorremmo i dati ordinati alfabeticamente no? se noi ritorniamo i values della mappa questi dati sono ordinati un po' come vogliono loro quindi potrebbe essere una soluzione crearsi una lista temporanea di country ok dopodiché andiamo a riempire secondo i valori che ci sono nella mappa quindi qui uso il punto values e per ogni c lo aggiungiamo nella lista il bello di avere una lista è però che posso ordinarla res non è applicabile c'è un errore perché ovviamente dobbiamo definire il criterio di ordinamento quindi andiamo in country va bene e diciamo che questa classe country implementa comparable di country sempre supponendo che ci vada bene un unico criterio di ordinamento se da qualche altro parte nell'esercizio ci serviva ordinare i country ad esempio per codice questa soluzione non va più bene ma dovremmo utilizzare il comparatore dinamico diciamo add allora cambiamo anche la to string per poi vedere questi country nella tendina e stampiamo solo il nome ad esempio e ordiniamo per nome o il nome o l'abbreviazione fa lo stesso supponiamo il nome se ordiniamo per nome è una stringa e allora possiamo usare il compare to della stringa compare to o punto get state name come vedete prima era un intero ho usato quel trucchetto con la meno qua sono stringhe e uso il compare to già definito per la classe stringhe ora non mi ricordo mai se questo ordina decrescente o crescente a memoria se qualcuno lo sa me lo dica altrimenti lo proviamo e al massimo ci mettiamo meno davanti così è crescente ok va bene torniamo qui dunque il metodo get countries nel model è finito qui mi da ancora un errore perché probabilmente non ho ancora detto al box nazione esatto che quello che andrà a contenere saranno dei country ops country devo importarlo benissimo proviamolo 2006 calcola confini sì benissimo ordinati in ordine crescente per nome ottimo adesso che abbiamo la tendina possiamo anche riempire il metodo simula la prima cosa da fare è andare a recuperare lo stato selezionato dall'utente nella tendina partenza uguale box nazione punto get value facciamo un rapido controllo che l'utente abbia effettivamente selezionato lo stato quindi se partenza è uguale a null stampo un messaggio d'errore magari dopo aver fatto il clear dell'area di testo devi selezionare uno stato va bene e poi ritorno perché non devo più andare avanti se invece l'utente ha selezionato uno stato posso simulare allora suppongo di avere un metodo del model che simuli il tutto meglio sempre passare dal modello che crearsi direttamente il simulatore qua dentro e chiamare i metodi del simulatore per dividere meglio il codice è il modello che è deputato a avere la logica dell'applicazione e non il controllo quindi suppongo di avere un metodo del model che simuli il tutto si preoccupi lui di creare il simulatore di rannarlo eccetera quando questo metodo ritornerà potrò chiedere al modello i risultati del della simulazione quindi pulisco l'area di testo e poi vado a scrivere dove ho fatto la simulazione quindi simulazione a partire da più partenza punto to string e poi vado ad appenderci i risultati che suppongo di poter ottenere dal modello quindi n passi due punti più model punto get last t e poi suppongo che il modello mi restituisca anche l'elenco degli stati con il numero di persone divenute istanziali visto che vogliamo ordinarle anche qui ci servirà una lista perché se vedete nel simulatore questa informazione qui l'abbiamo salvata diciamo nella mappa stanziali ma noi vogliamo poi anche ordinarle quindi supponiamo che il modello ci riesca a restituire una lista di queste informazioni che poi noi possiamo ordinare ovviamente se ci restituisce una lista ci restituisce una lista di oggetti singoli non abbiamo delle coppie chiave valori e quindi dobbiamo in qualche modo collassare l'informazione country e integer in un'unica classe fortunatamente questa classe l'avevo già creata per il punto 1 cioè abbiamo una classe nel model country and number che avevamo usato per un'altra cosa per modellare il fatto nel punto 1 di avere un country e il numero dei suoi vicini però possiamo riutilizzarla anche per questo scopo qua quindi supponiamo che il modello ci possa restituire una lista di country and number quindi per ogni country and number ci in dis.model punto get stanziali vado ad appendere c punto get country più mettiamo un uguale più c punto get number è chiaro? oh mi sono spiegato male è chiaro va bene non ci resta che definire questi tre due metodi del modello tre perché abbiamo anche il simula partiamo dal più importante che è il simula lo faccio creare ad eclipse e allora sì che qui all'interno del modello posso crearmi un mio simulatore ovviamente mi accorgo adesso che qui manca qualcosa perché sim punto init ma a questa init dobbiamo passargli la partenza e il grafo quindi questo metodo simula sicuramente avrà i parametri che saranno che sarà solo questo perché il grafo in realtà ce l'abbiamo noi all'interno del modello non ce l'ha il controller l'unica cosa che ci deve dire il controller è il country di partenza e questo sarà this punto graph inizializzo run boh poi lui va avanti e fa tutto quindi dobbiamo cambiare dal controller qui dobbiamo passargli ovviamente partenza quando simula termina allora possiamo chiedere al modello i parametri andiamo ancora a creare questo metodo get last t ovviamente qui c'è un altro problema perché ho creato un simulatore all'interno del metodo e adesso come faccio ad accederci di qui non posso crearne uno nuovo perché perderebbe tutti i dati di prima e allora questo simulatore qua direi che ha la necessità di essere per come abbiamo impostato il programma di essere definito come parametro attributo della classe model va bene o altrimenti un'altra soluzione è avere degli attributi che salvino il t e gli istanziali ma perché non definire il simulatore come attributo e magari lo creo nel costruttore del modello in questo caso ne creo soltanto uno tanto poi anche se lo riutilizzerò c'è sempre il metodo init che pulirà tutte le strutture dati e lo farà ripartire da zero a questo punto this punto sim punto ci manca ancora anche nel simulatore il metodo per ottenere l'ultimo t lo vado a definire dovremmo essere arrivati all'ultimo livello ovviamente non è una stringa ma è un int e già che ci sono definisco anche il getter per gli istanziali che sicuramente dovrò andare a recuperare quindi un get di una mappa che poi trasformerò in stringa come vi ho già detto un po' macchinoso ma ce l'abbiamo fatta allora uso questi metodi dal modello questo non è una stringa ma è un int e poi abbiamo detto che ma forse me lo faccio creare faccio prima dal controller voglio una lista di country and number non è object ma è una lista di country and number allora io posso farmi dare la mappa dal simulatore uguale uguale this punto sim punto get stanziali e dopodiché trasformo questa mappa in lista di country and number sempre per lo stesso motivo che voglio ordinarlo quindi mi crea una lista temporanea di country and number stanziali list uguale new array list di country and numbers poi scorro i valori della mappa o meglio qui ci servono entrambe le informazioni quindi possiamo scorrere ad esempio le chiavi quindi country scusate country c in stanziali punto key set scorro tutte tutte le chiavi e per ognuna di queste chiavi vado a prendere il numero e mi crea un oggetto country and number new country number in cui fatemi vedere solo com'è il costruttore sì prima il country e poi il numero quindi c e come valore la mappa punto get dc devo dargli un nome non posso più chiamarlo c chiamiamolo cn lo creo e lo aggiungo nella mia lista temporanea punto add cn prima di ritornarla la ordino qui ha già ecco qui un problema ha già un compare to che però ordina sì per numero decrescente quindi forse ci va addirittura bene decrescente siamo proprio fortunati quindi c'è già un compare to che era stato studiato per il punto prima ma che casualmente è proprio quello che ci serve quindi possiamo lasciare così e fare collections punto sort di stanziali list e poi la ritorno dovremmo aver finito quindi c'è la prova del 9 torniamo al controller direi di sì non ci sono errori proviamo a lanciarlo 2006 creo il grafo selezioniamo che ne so l'Italia e simuliamo wow bel casino ma allora sicuramente mettiamo qualche delle scene se no non ci capiamo più niente quindi qui andiamo a capo anche qui e anche ad ogni riga dopodiché come vedete qui stampo anche i paesi per cui gli stanziali sono rimasti a zero probabilmente perché nessuno ci è mai arrivato anzi sicuramente per questo motivo quindi stampiamo solo quei valori per cui il numero di stanziali è maggiore di zero quindi if c punto get number maggiore di zero stampo altrimenti no va bene riproviamo chiudiamo questa 2006 calcolo vado a beccarmi l'Italia simula numero di passi 4 secondo me c'è qualche problema eh infatti sono numeri un po' piccoli andiamo a vedere dove potrebbe essere il problema tanto abbiamo ancora un po' di minuti andiamo nel simulatore qui creo un evento con n migranti uguale a mille estraggo l'evento vediamo che get n sia quello corretto n n il secondo parametro va bene n persone le diviso due a qualcuno vengono numeri diversi c'è qualche problema sì direi di sì confinanti confinanti punto size per ogni confinante aggiungo un evento sostanziali proviamo a mettere poi al massimo lo continui hai ragione ecco qui l'errore bravissimo ovviamente dobbiamo aggiornare la mappa non sovrascrivere la mappa quindi qui non è stanziali ma è quelli che c'erano già stanziali più il nuovo valore giusto quindi dis punto stanziali punto get di stato più stanziali ecco qua dove era l'errore probabilmente poi magari ce ne sono altri 2.6 già meglio direi che ora ci siamo quindi 550 in 4 passi siamo riusciti a redistribuirli tutti 550 sono rimasti in Germania in Italia 53 in Germania e come vedete più ci allontaniamo dall'Italia e meno ovviamente persone arrivano questo mi sembra ragionevole direi che se non ci sono domande per oggi è tutto grazie per l'attenzione ci vediamo domani in laboratorio grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione